Ringrazio Maria Grazia Portera per la presentazione, buongiorno a tutti, grazie per essere qui per questo incontro il cui tema è appunto il tema della relazione. Il tema della relazione è il tema di come impariamo a comprendere chi ci circonda, come riusciamo a navigare nel nostro mondo sociale, come facciamo a capire gli altri quando ci riusciamo, spesso non ci riusciamo. Infatti poi litighiamo, combattiamo, ci separiamo, divorziamo, ci meniamo. Ecco, tutte queste manifestazioni, diciamo, negative della relazione spiegano, fanno capire benissimo come il rapporto con l'altro sia problematico, sempre. Forse però il problema del rapporto con l'altro è stato considerato per molto tempo esageratamente problematico. Che cosa voglio dire? Voglio dire che seguendo certi filoni di filosofia della mente o delle scienze cognitive classiche si è dato per scontato che l'altro che sta di fronte a me sia in qualche modo incommensurabilmente lontano dalla mia dimensione di soggetto che cerca di comprenderlo, tanto che l'altro, nelle sue manifestazioni, nei suoi comportamenti, secondo questa visione della relazione e dell'intersoggettività, il comportamento dell'altro può essere compreso solo ed esclusivamente attraverso una complicata operazione mentale. Che cosa significa? Significa che l'agire dell'altro ha un significato per me solo nella misura in cui riesco a costruire nella mia mente una rappresentazione mentale della rappresentazione mentale dell'altro che ha poi generato quel tipo di comportamento. Secondo questa visione, per usare un parolone, c'è un golfo epistemico, una distanza nella mia capacità di conoscere l'altro che può essere scolmata solo ed esclusivamente attraverso l'utilizzazione di sofisticati strumenti cognitivi che non possono prescindere dall'uso del linguaggio. Si parla quindi di teoria della mente dell'altro, teoria della teoria e così via. Cercherò di convincervi come questa visione è eccessivamente pessimista riguardo a altre modalità di relazionarci con gli altri che verosimilmente sono più antiche, da un punto di vista evolutivo, nascono cioè nel mondo animale ben prima che arrivi l'homo sapiens sapiens o qualche suo predecessore, qui è molto difficile porre una linea di partenza, che si dota di questo strumento incredibile che è il linguaggio. Sia da un punto di vista evolutivo, quindi come l'umano arriva a essere umano parlante, sia da un punto di vista ontogenetico, cioè come ognuno di noi partendo da un periodo preverbale arriva finalmente ad articolare non solo suoni ma parole cariche di significato, bene, se affrontiamo il tema dell'intersoggettività da questo punto di vista, dobbiamo fare i conti con meccanismi, dicevo, evolutivamente più antichi del linguaggio, meccanismi che per comodità possiamo definire, dicendocelo solo qua oggi, tra di noi, empatici, il termine empatia è una parola ormai quasi inusabile, perché ognuno la usa, la tira per la giacchetta da una parte e dall'altra, non c'è un grande condivisione del senso da dare a questa nozione di empatia, cercherò di chiarirlo nel corso della conversazione di oggi. Allora, io sono venuto oggi a parlarvi di intersoggettività parlandone da una prospettiva molto particolare. Quest'immagine, a sinistra intravedete un elettrodo nelle vicinanze di un singolo neurone, a destra vedete una fotografia della risonanza magnetica funzionale. Ecco, diciamo che in queste due immagini è descritto l'arco trentennale, ormai, ahimè, della mia carriera. Sono partito dallo studio del modello animale, registrando quindi singoli neuroni, ed è lì che è avvenuta nel 91 la scoperta dei neuroni specchio per approdare poi negli ultimi 10-15 anni sempre di più a porre le domande finalmente al cervello corpo umano, a quello della nostra specie. Perché ho messo questa domanda iniziale? Quali neuroscienze? Perché, prima di tutto, perché le neuroscienze le decliniamo al plurale. Possiamo interessarci all'estremamente piccolo e quindi analizzare i neurotrasmettitori, i recettori, le modalità con cui i neuroni si scambiano le informazioni, secernendo dopamina, serotonina, acetilcolina e quant'altro. Oppure possiamo volere avere una visione più globale del funzionamento del cervello e soprattutto per metterla in relazione, inizialmente, e poi sperando di poter chiarire dei rapporti di causa-effetto con il nostro comportamento, con la nostra vita mentale. Fatta questa differenza, però ne dobbiamo introdurre un'altra. Anche quando condividiamo lo scopo di fare le domande, prima che al signor Rossi ha il suo cervello per capire chi è il signor Rossi e come funziona, possiamo fare al suo cervello domande molto diverse. E a seconda del tipo di domande che facciamo, che a loro volta non nascono mai nel vuoto, ma sono suscitate da teorie, idee, pregiudizi che ogni scienziato porta con sé, non esiste la neutralità della scienza. La scienza è sempre collocata in un momento storico, in una temperie culturale, nelle esperienze soggettive di chi la fa e professa che condizionano potentemente questo approccio. Allora, il modello che cercherò di smontare, e poi insomma siamo in Emilia e quindi c'è di meglio dell'hamburger, questo modello è una caricatura di quello che vi dicevo prima. Per molti anni siamo stati convinti che la nostra attività mentale, i nostri processi cognitivi qui rappresentati al centro dell'immagine, l'hamburger è la parte più interessante del sandwich in questo caso. Volevo metterci il prosciutto di Parma, ma non ho fatto tempo a modificare l'immagine, perché c'è il festival del prosciutto a Parma in questo periodo. È contenuto da due elementi, vedete, la percezione e l'azione. Che cosa dice questo modello? Che al centro della nostra vita mentale ci sono i processi cognitivi, che sono alimentati dalla nostra capacità di costruire una rappresentazione percettiva del mondo, questi processi cognitivi poi danno un input ai nostri sistemi motori, che alla fine, comandando l'attivazione dei muscoli, traducono in comportamento quelle famose rappresentazioni mentali. Il flusso va in un'unica direzione, dalla percezione alla cognizione e solo alla fine all'azione. Azione e percezione non sono reciprocamente connesse, come vedremo i dati invece suggeriscono potentemente, e in più sono periferiche rispetto ai processi cognitivi. L'altra metafora che vorrei smontare, particolarmente popolare tra certe frange della psicologia evoluzionistica, è il modello evolutivo della mente umana che la avvicina a questo famosissimo utensile, il coltellino dell'esercito svizzero. Così come un coltello svizzero è dotato di molti utensili, c'è la lima, ci sono le forbici, il coltello, il cavatappi, la pribottiglie, e in versioni sempre più maxi ne possiamo aggiungere quasi ad libitum, così la mente umana sarebbe il punto di arrivo di un lungo processo evolutivo in cui si sono assommati moduli cognitivi. Moduli cognitivi, cioè parti specializzate del nostro apparato cognitivo, che per il vantaggio adattativo che offrivano a chi li aveva, venivano selezionati e tramandati alla progenie. Cosa sono questi moduli cognitivi? Sono ad esempio il modulo del linguaggio, sono secondo molti autori il modulo della teoria della mente. Quindi la nostra mente, che funziona come il sandwich di prima, sarebbe una collezione di moduli cognitivi incapsulati, dove ognuno di questi moduli, per la definizione di incapsulamento, adesso non entriamo nei dettagli, non tiriamo a mano Fodor, ma è così, di fatto, secondo questa teoria, ognuno fa le sue cose. Il modulo del linguaggio fa il linguaggio, il modulo della teoria della mente fa la teoria della mente, eccetera, eccetera. Credo che questi due modelli siano profondamente sbagliati, tanto per essere chiari. Il linguaggio è uno strumento potentissimo, di fatto è uno dei motori principali della transizione così potente nella specie umana tra un'evoluzione biologica che diviene poi evoluzione culturale. Ma non è l'unico strumento della nostra vita di relazione, in questo che, secondo me, è uno dei più bei e più importanti i libri italiani del Novecento, I sommersi e i salvati, di Primo Levi, sentite come descrive il linguaggio Primo Levi. Ciò che comunemente intendiamo per comprendere coincide con semplificare. Senza una profonda semplificazione, il mondo intorno a noi sarebbe un groviglio infinito e indefinito che sfiderebbe la nostra capacità di orientarci e decidere le nostre azioni. Siamo, insomma, costretti a ridurre il conoscibile a schema. A questo scopo tendono i mirabili strumenti che ci siamo costruiti nel corso dell'evoluzione e che sono specifici del genere umano, il linguaggio e il pensiero concettuale. Questo per dire che l'esperienza che noi facciamo dell'altro nel nostro quotidiano incontro con le persone con cui entriamo in contatto e in relazione eccede sempre le parole e i concetti che abbiamo imparato a utilizzare per descrivere queste stesse esperienze. Quindi, un approccio neurobiologico alla compressione dei nostri processi mentali e in particolare per stare sul pezzo oggi i processi mentali che ci consentono di entrare in relazione con gli altri non si può limitare ad indagare la relazione tra le parole, i concetti che normalmente utilizziamo per descriverli teoria della mente, teoria della teoria empatia, amore, odio, competizione agonismo, collaborazione, invidia che sono alcune delle parole chiave di cui si sta dibattendo qui a Modena Carpi a Sassuolo durante l'edizione di questo festival e le aree cerebrali che si attivano durante l'applicazione di tali concetti. Cioè, se noi cerchiamo di utilizzare le neuroscienze per fare luce sull'intersoggettività cercando una mappa uno a uno tra i concetti che utilizziamo per descrivere la relazione con l'altro e aree cerebrali, siamo fuoristrada reinventiamo la frenologia facciamo semplicemente una versione sofisticata high tech della vecchia frenologia con l'aggravante che rispetto a questi grandi pionieri che sono stati i primi, Gohl, Spurzheim a porsi il problema di come localizzare nel corpo e nel cervello le facoltà cognitive e mentali e ne dovremmo sapere un po' di più di quello che sapevano loro tra la fine del Setticento e i primi dell'Ottocento. Dobbiamo quindi indagare prima di tutto come dal sistema cervello-corpo tornerò su questo punto questo trattino che unisce il cervello al corpo per me è fondamentale nelle sue situate relazioni mondane scaturisca l'attività mentale e venga recepita quando espressa dagli altri. Dobbiamo in altre parole cercare di fare una traduzione o se volete una riduzione ma una riduzione intelligente metodologica non ontologica dobbiamo cercare di tradurre le parole che usiamo per parlare dell'intersoggettività in esperienze riconducendo poi le esperienze a un'analisi dei processi percettivi motori e cognitivi che le generano e queste cose le neuroscienze cognitive oggi riescono a farle abbastanza bene. La mente è qualcosa di più di una semplice computazione anche se molti continuano a sostenere il contrario. Il cervello non è un computer dobbiamo parlare di sistema cervello-corpo. Che cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente che i nostri processi mentali non si darebbero se non ci fosse il cervello e quindi il cervello è una condizione necessaria per farci essere quelli che siamo ma non sufficiente perché il cervello fa il suo lavoro di scambiare potenziali d'azione tra una cellula e l'altra solo nella misura in cui quel cervello è legato a filo doppio a un corpo alla nostra carnalità e questa nostra corporeità è quella che è perché si è adattata quindi è situata in un mondo il nostro che obbedisce a una serie di leggi fisiche. Se noi ci fossimo evoluti in un mondo privo di forze di gravità verosimilmente non avrebbero mai inventato un linguaggio che utilizza metafore spaziali. Crollano i prezzi degli immobili si impenna la disoccupazione queste frasi che percepiamo immediatamente e lo facciamo anche perché hanno questa potente risonanza carnale corporea non avrebbero significato se noi non sapessimo grazie alla forza di gravità che esiste un alto e un basso. Quindi come costruiamo l'evidenza naturale del mondo degli altri? In questa domanda c'è già un'assunzione ossia che l'altro normalmente mi si dà con una naturalità che io sono pronto a incontrare e per anticipare un po' il succo di tutto il discorso su questo tema come rispondere a questa domanda in breve la mia risposta oggi 2016 poi magari se mi invitate tra due anni è possibile che vi dica scusate cancellate tutto non ho capito un tubo i dati ci hanno suggerito che le cose stanno in un modo diverso ci muoviamo costantemente per approssimazioni che ci aiutano a formulare queste domande i risultati che rispondono a queste domande sono sempre risposte parziali che generano nuovi quesiti e in questo modo ogni giorno è diverso dall'altro e questo è uno dei motivi per cui io sono felice di fare quello che faccio anche se sempre con maggiori difficoltà purtroppo oggi in Italia ma continua a essere un lavoro che mi sento di consigliare a tutti perché è foriero di sorprese delusioni frustrazioni esaltazioni ogni giorno è sempre diverso dall'altro alla base della capacità di comprendere il comportamento altrui sia da un punto di vista evolutivo che ontogenetico c'è un meccanismo di base la simulazione incarnata che sfrutta l'organizzazione funzionale del nostro sistema motorio che quindi non è un semplice controllore di muscoli ma è un perno fondamentale dei nostri apparati cognitivi e la condivisione di emozioni e sensazioni con gli altri questo signore nello stesso anno in cui Freud pubblica l'io e l'ess pubblica un libro che si chiama io e tu e uno dei concetti cardine di questo libro di Martin Buber è in principio è la relazione quello che non vedrete perché il filmato è scuro e lo schermo è molto illuminato ma ve lo posso descrivere vedrete i movimenti di due fetti gemelli descritti da un'ecografia in 3D che noi abbiamo studiato abbiamo studiato cinque coppie di gemelli e i risultati dicono che già in una fase fetale quando l'ambiente in cui ci sviluppiamo è un ambiente sociale perché c'è un fratello o una sorella l'altro gemello il nostro sistema motorio ci fa muovere in modo diverso a seconda che esploriamo le pareti interne dell'utero ci tocchiamo o andiamo a toccare l'altro in questo breve spezzone filmato su cui non torno perché si vede male qua con l'illuminazione puntata sullo schermo avreste visto una specie di carezza che uno dei due gemelli fa sulla schiena dell'altro quindi già alla quattordicesima settimana di gestazione i feti gemelli mostrano movimenti del braccio che hanno differenti profili cinematici quantitativi a seconda che siano diretti verso il sé o diretti verso l'altro in più in questa stessa finestra temporale in cui i corpi crescono di volume lo spazio per muoversi si riduce i movimenti che diminuiscono percentualmente in misura minore sono i movimenti diretti verso l'altro questo è il motivo per cui come anticipava gentilmente Maria Grazia Portera nella sua introduzione abbiamo deciso di intitolare questo lavoro cablati per essere sociali appena nasciamo e vediamo di fronte a noi il volto preferibilmente non di Andy Melzoff ma il volto di nostra madre noi immediatamente ci sintonizziamo con il comportamento dell'altro attraverso questa imitazione neonatale che dura poco pochi mesi 50 giorni su per giù nella scimmia molto meno pochi giorni ma che è un potentissimo strumento di inizio della relazione di attaccamento con l'altro ci sincronizziamo con le sue azioni stabiliamo un contatto che fin dall'inizio è carico di senso di significato anche se non abbiamo ancora imparato le parole con cui impareremo a tradurlo in concetti e parole abbiamo imparato a rivalutare l'intelligenza del bambino fino a non molti decenni fa si diceva che i bambini non provavano dolore e ancora oggi ho ascoltato con le mie orecchie un filosofo della mente americano sostenere che un bambino preverbale non è cosciente augurandomi tra me e me che questo signore non avesse figli siamo poveri loro ecco vedete qui lo psicologo divarica le dita di fronte all'obiettivo della camera e vedete che cosa fa il neonato immediatamente dopo abbiamo imparato moltissimo a partire dagli anni sessanta del secolo scorso grazie a una manciata di pionieri dello studio dello sviluppo cognitivo affettivo del bambino uno è Colvin Trevarten un altro è stato Daniel Stern un altro è Ed Tronic Colvin Trevarten ha in qualche modo descritto il nostro sviluppo cognitivo affettivo partendo da un primo stadio che lui chiama intersoggettività primaria che inizia ben prima della nascita negli ultimi mesi di gestazione se voi fate sentire una ninnana cantate una ninnanana a vostro figlio nel vostro grembo e poi gliela fate riascoltare immediatamente alla nascita il suo cervello la discrimina da una ninnanana analoga ma che non ha mai ascoltato il cervello registrato con l'elettroencefalografia fa la differenza tra quello che abbiamo ascoltato in utero e quello che ascoltiamo per la prima volta quindi tutto va anticipato questi primi mesi di vita extrauterina sono cruciali parte l'imitazione neonatale e arrivati attorno all'anno di età condividiamo l'attenzione con l'altro e parte quella seconda fase che Trevarten ha denominato intersoggettività secondaria quindi la reciproca regolazione tra bambino e adulto nel corso della comunicazione per mezzo delle emozioni lui parla di danza e musicalità della relazione tra madre e bambino rende possibile l'adeguato sviluppo della coscienza le emozioni che si succedono all'interno della relazione tra bambino e adulto assumono la funzione di regolazione intersoggettiva che si attua nello scambio comunicativo qui vedete i primi giorni limitazione neonatale il bambino già a tre mesi comincia a fare l'attore comincia a sorridere vuole l'attenzione su di sé è un elemento attivo sollecita direttamente il contatto e la relazione con l'altro tant'è vero che se voi convincete una madre a rimanere immobile per tre minuti la still face il celebre paradigma inventato da Ed Tronick di rimanere impassibile di fronte al suo bambino per tre minuti voi vedete questi bambini che cosa non si inventano per attirare l'attenzione della madre molte madri spesso non riescono ad arrivare a tre minuti perché non appena vedono che il bambino si stresa e inizia a piangere immediatamente lo prendono in braccio e gli dicono no no era un gioco quindi neuroni specchio perché neuroni specchio perché i neuroni specchio che noi abbiamo scoperto in questa area F5 in un'area premotoria nel cervello del macaco in alto il macaco sotto il nostro cervello il codice a colore identico per evidenziare la straordinaria analogia nell'organizzazione dei nostri sistemi motori rispetto a quelli di questi nostri antenati da cui più o meno ci separano 20 milioni di anni in termini di evoluzione bene in quest'area abbiamo trovato neuroni che non solo controllano i movimenti di prensione attivamente esercitati dalla scimmia come vedete nella parte destra della figura tutti i puntini che vedete in alto ognuno è un singolo potenziale d'azione registrato mentre la scimmia va a prendere l'oggetto a sinistra lo stesso neurone risponde quando a prendere non è la scimmia ma sono io o un mio collega di fronte a lei sotto vedete la somma della scarica dei neuroni in entrambe le condizioni quando prende ma anche quando vede prendere quindi l'idea è che le possibilità motorie espresse dalla nostra corporeità e che quindi forgiano il nucleo portante della nostra identità che ha molti strati per arrivare alla nostra identità autobiografica narrativa ma al di sotto di chi siamo cioè la nostra storia c'è un sé corporeo bene le possibilità esplicate dalla nostra corporeità che forgiano questo sé corporeo ci rendono anche consapevoli del sé corporeo altrui perché perché le possibilità motorie dell'altro sono mappate sulle nostre grazie a questo meccanismo di rispecchiamento dicevamo che la capacità di convergere con l'attenzione sullo stesso oggetto su cui porta l'attenzione l'adulto per la psicologia dello sviluppo segna un passaggio fondamentale nell'evoluzione psicoaffettiva del bambino la condivisione dell'attenzione oggi cominciamo a capire quali sono i meccanismi neurofisiologici che ci permettono di guardare lo stesso oggetto che sta guardando chi ci sta di fronte questi sono neuroni specchio oculomotori cioè controllano ad esempio i movimenti degli occhi della scimmia verso destra ma si attivano anche quando la scimmia ha gli occhi fermi e guarda un'altra scimmia guardare nella stessa direzione questo è un ulteriore elemento che ci fa capire la rilevanza del meccanismo di rispecchiamento nell'intelligenza sociale veniamo a noi in queste immagini vedete riassunto più di 20 anni di studi di brain imaging più di 150 lavori di risonanza magnetica funzionale dimostrano che queste sono le aree del nostro cervello che si attivano sia quando eseguiamo azioni o movimenti movimenti anche gratuiti come alzare il braccio movimenti dotati di una carica comunicativa sia quando li eseguiamo che quando li vediamo eseguire dagli altri e in pratica vedete come quell'area gialla IFG inferior frontal gyrus è in realtà la parte posteriore della regione di Brocca che fino a molti anni fa in questa idea della modularità sigillata tutti pensavano fosse quasi esclusivamente vocata a renderci parlanti oggi sappiamo che i neuroni che stanno lì dentro fanno molte cose oltre al linguaggio ci permettono anche la relazione con l'altro uno degli aspetti fondamentali della nostra intelligenza è che è un'intelligenza mimetica quell'imitazione neonatale presto lascia spazio a modalità di apprendere a fare o conoscere cose facendo come fanno gli altri è una vecchia intuizione qui ho messo Aristotele come prototipo di quanto è antica quest'idea questo è il primo lavoro che ha dimostrato il ruolo portante dei neuroni specchio nell'imitazione qui i soggetti dovevano alzare il dito indice quando lo vedevano alzare nel filmato la risonanza magnetica funzionale in questa attività semplicissima imitativa registra l'attività di una parte della corteccia premotoria la parte posteriore dell'area di Brocca ma ancora più interessante questo studio in cui 20 persone che non avevano mai preso in mano una chitarra entrano nello scanner gli viene dato da tenere in grembo il braccio di una chitarra vedono dei semplici accordi nel filmato e gli viene chiesto di riprodurre con la propria mano sinistra quegli stessi accordi sul braccio della chitarra che hanno in mano e i risultati mostrano come durante questo apprendimento imitativo il meccanismo dei neuroni specchio è fortemente attivato ma in più viene attivata anche un'area prefrontale che verosimilmente è il direttore d'orchestra di questo apprendimento imitativo io quando ascolto un disco di musica rock che mi lascio andare alle volte faccio finta di suonare la chitarra mia figlia mi dice babbo ma sei scemo non hai la chitarra cosa fai il buffone e dico faccio finta di suonare quindi io chiaramente posso mimare degli accordi faccio finta ma se lo facessi su una chitarra sarebbe un disastro uscirebbero chissà cosa uscirebbe quindi l'idea è che qui il meccanismo dei neuroni specchio da quel filmato estrae gli elementi nucleari i singoli movimenti delle dita e la corteccia prefrontale le riorchestra nella corretta sequenza spazio-temporale che mi permetterà non di emettere dei suoni caotici ma di riprodurre esattamente quella sequenza di suoni quindi per riassumere alcune aree del nostro cervello sono ugualmente attivate quando eseguiamo quando osserviamo quando imitiamo ma dovrei dire anche quando immaginiamo movimenti corporei azioni su oggetti azioni comunicative e elemento non indifferente anche quando ascoltiamo o leggiamo descrizioni verbali di quelle stesse azioni quindi le stesse parti del mio cervello che si attivano quando io afferro questo bicchiere quando lo vedo afferrare da Maria Grazia quando la imito o quando immagino me stesso o lei afferrare quel bicchiere si attivano anche quando leggo Maria Grazia ha afferrato il bicchiere o qualcuno me lo dice quindi vedete come questo schematismo linguistico che ci serve a comprendere il mondo semplificandolo non perde mai una connessione con la nostra corporeità sensori motoria ma questa lo abbiamo capito negli anni è solo la punta dell'iceberg che cosa voglio dire voglio dire che in altri domini che non sono quelli delle azioni ma il dominio delle emozioni o quello delle sensazioni troviamo analoghi meccanismi di rispecchiamento che cosa vuol dire provare un'emozione è vivere nella propria interiorità un sentimento che poi in qualche modo percolando trovo una valvola di uscita e di espressione nella mia corporeità o il mio modo di esprimere l'emozione è una parte integrante di quella stessa emozione come sostiene questo filosofo franco-canadese come prima di lui ha sostenuto John Dewey e come straordinariamente questa è stata una scoperta di quest'estate non me lo ricordavo più quel passaggio come mirabilmente dice e teorizza Musil nella seconda parte dell'uomo senza qualità vivere un'emozione ed esprimerla col proprio corpo sono due facce della stessa medaglia bene abbiamo dimostrato che la stessa regione del cervello l'insula anteriore che si attiva quando mi fanno odorare un odorante disgustoso quindi quando io soggettivamente provo disgusto si attiva anche quando vedo l'espressione del disgusto sul volto dell'altro così come se parliamo di sensazioni quando toccano il mio corpo e si produce dolore si attiva un neurone come questo un singolo neurone registrato nella corteccia di un paziente neurochirurgico che si attiva anche quando vede applicare lo stesso stimolo doloroso al neurochirurgo che gli sta di fronte o se parliamo di fmri quando i soggetti provavano dolore o lo vedevano provare oltre a quell'area in cui è stato registrato quel neurone un'altra regione dell'insula si attiva in entrambe le condizioni e questo altro lavoro dice la stessa cosa questo è il primo lavoro in assoluto che abbiamo fatto noi che ha dimostrato un meccanismo di rispecchiamento per le sensazioni tattili i soggetti in risonanza venivano accarezzati sulle gambe e vedevano dei filmati in cui vedevano accarezzare le gambe di qualcun altro entrambe le condizioni portano all'attivazione di un'area che fino a quel momento si riteneva essere solo tattile l'area somatosensoriale seconda ma c'è di più noi ci riferiamo a concetti astratti stranamente ma non tanto stranamente a questo punto facendo riferimento a sensazioni corporee ma perché non vai d'accordo col tuo collega ma è una questione di pelle rimaniamo in contatto ha mostrato attaccamento hai toccato il fondo la cosa non mi tocca tocca con mano non mi sfiora nemmeno l'idea di non ti accarezza l'idea è stato uno schiaffo morale potrei continuare bene che cosa succede nel nostro cervello quando ci fanno leggere in risonanza queste metafore tattili questo è il lavoro si attivano le aree tattili come sempre abbiamo a che vedere con un vino antichissimo venduto nelle nuove bottiglie delle neuroscienze cognitive di oggi leggiamo Vico e lo leggono forse in questa chiave più all'estero che in Italia e ritroviamo pari pari gli stessi concetti quindi riassumiamo dove siamo arrivati abbiamo visto quello che c'è sotto la punta dell'iceberg la prima scoperta i neuroni specchio per l'azione imitazione osservazione dell'azione emozioni sensazioni quindi abbiamo tutti gli ingredienti che normalmente mettiamo in gioco quando incontriamo l'altro quindi io non parlo più di neuroni specchio anche perché si induce l'idea che questi siano dei neuroni speciali alle volte mi chiedono ma come sono fatti rispetto agli altri sono fatti come tutti gli altri neuroni esprimono una proprietà che a sua volta è frutto delle connessioni che li uniscono ad altri circuiti nessun neurone è un'isola come nessun uomo lo è la logica è frattale la ritrovate a tutti i livelli e questa frattalità delle logiche è un altro aspetto molto interessante che secondo me ci potrebbe dare delle dritte in questa ottica di comprensione della comprensione dell'intersoggettività da più punti di vista quindi parliamo di un meccanismo di rispecchiamento che mappa le rappresentazioni sensoriali delle azioni delle emozioni o delle sensazioni altrui sulle nostre rappresentazioni motorie emotive e sensoriali e questo questa è la mia ipotesi ci permette di percepire le azioni le emozioni le sensazioni dell'altro in un modo diverso da un modo freddo cognitivo teoretico ma dall'interno empatia viene da Einfühlung sentire dentro e guarda caso questa parola è stata usata sistematicamente in estetica prima che in psicologia per parlare del nostro rapporto con le opere d'arte quindi la simulazione incarnata cerca in qualche modo di fornire un modello integrato di questi e di altri meccanismi di cui non ho tempo di parlare oggi e dice in pratica che noi con grande economia riusiamo risorse neurali che ci servono per agire sentire provare cose anche per mappare le azioni le emozioni le sensazioni provate dagli altri perché incarnata perché abbiamo a che vedere con un formato di rappresentazione che non è linguistico anche se mantiene strette connessioni con il formato linguistico domani ascolterete una bellissima lezione di Paolo Virno che affronterà il tema di che cosa inietta il linguaggio in questi meccanismi che lui parla espressione del pre-individuale oggi sul manifesto c'è tutta una pagina un articolo di Paolo in cui parla di queste tematiche il linguaggio retroagisce su questi meccanismi modulandoli quindi riutilizziamo i nostri stati o processi mentali rappresentati in un formato corporeo per attribuirli implicitamente agli altri e quindi a un livello di base voglio essere chiaro qua non c'è tutta l'intersoggettività ci sono i pilastri che servono a fare decollare poi meccanismi via via che apparentemente ci accompagnano ci allontanano dal corpo ma che in realtà al corpo sono sempre legati a filo doppio e quindi il grado zero dell'intersoggettività è l'intercorporeità quindi in questo schema estremamente grossolano tanto per capirsi livello di descrizione come si dice subpersonale i neuroni il meccanismo funzionale che questi neuroni rendono possibile la simulazione incarnata che cosa ci compra questo meccanismo la capacità di sintonizzarci con l'altro non speriamo necessariamente i contenuti dell'esperienza l'altro quello che prova l'altro non è mai trasparente sarebbe un incubo se fosse così ma questo meccanismo in qualche misura ci porta dentro l'altro ci fa apprezzare in un modo diverso da quello teoretico che cosa sta facendo l'altro entro certa misura perché lo fa e come quindi ci permette di comprendere che l'altro è un altro come me cioè che quindi esperisce il mondo in un modo non molto diverso da come lo esperisco io e quindi se si dà una martellata su un dito verosimilmente proverà dolore e dirà ai quindi nel rapporto dell'intersoggettività grazie alla simulazione incarnata c'è una dimensione di identità che fonda e precede la differenza questi due aspetti non possono essere disgiunti sono come gemelli siamesi devono stare sempre insieme se ho solo l'identità mi perdo nell'altro e posso sconfinare nella psicosi i confini del mio sé si espandono sono io che faccio muovere le macchine che passano per le strade di carpi ma al contempo se c'è solo l'alterità dell'altro l'altro per me è un enigma quindi qui abbiamo i due poli di una distribuzione normale di una dimensionalità intersoggettiva che in una sana compenetrazione dell'identità e dell'alterità dell'altro con fatica attraverso molti ostacoli comunque mi permette di vivere una vita sociale tra virgolette discretamente competente quindi l'identità con l'altro e la mia diversità dall'altro sono connecessarie per una fisiologica costituzione del sé lo status di come me che io riconosco automaticamente nell'altro non è quindi solo il risultato di un'operazione cognitiva di inferenza o del fatto che io mi metto lì esplicitamente dicono dunque allora quello no la mia identificazione con l'altro è una caratteristica costitutiva di ciò che significa essere umani ieri ero in macchina tornavo da Bologna ascoltavo Felice Cimatti a Fahrenheit che intervistava un'altra relatrice di oggi Larigotti e lei diceva beh però a un certo punto dovete mettervi d'accordo o ci sono i neuroni mirror e l'empatia o c'è l'homo homini lupus c'è Hobbes c'è l'antagonismo c'è la violenza mi permetto sommessamente di dire no ci sono tutti e due cioè qualcuno ha scritto che è perché abbiamo i neuroni specchio che siamo buoni altruisti no è una sciocchezza l'empatia l'imitazione il mimetismo non è intrinsecamente né buono né cattivo possono portarmi a emulare l'altro in un sano agonismo di cui si discuteva ieri qui ma possono contemporaneamente portarmi al mimetismo di acquisizione di cui parla René Girard in cui desidero l'oggetto non per le sue qualità intrinseche io voglio questo bicchiere non perché mi piace questo bicchiere ma perché ho capito che lo vuole Maria Grazia imito il suo desiderio e quindi da qui nasce il conflitto per avere quel bicchiere ok quindi questi due aspetti coesistono siamo un impasto di entrambe queste dimensioni empatizzare non significa provare simpatia per l'altro il sadico manifesta capacità empatiche proprio perché trae piacere dal dolore che riconosce essere in grado di fare provare alla sua vittima l'ultimo flash intersoggettività non è solo imitare a camminare a parlare a giocare a tennis il mimetismo è in qualche modo legato anche alla dimensione sociale linguistica cognitiva della nostra esistenza i simboli se voi ci pensate il cammino della nostra evoluzione culturale lo possiamo mettere in un grafico in cui dalla danza dalla tradizione orale dei rapsodi inizia un percorso di progressiva esternalizzazione dal corpo che parte tantissimo tempo fa questo è un pezzo d'ocra inciso dalla mano di un uomo e ha almeno 70.000 anni quindi 30-35.000 anni prima delle pitture sulle grotte di Lascaux di Chauvet di Altamira siamo in Sudafrica tutto inizia in Africa verosimilmente o perlomeno in questa parte di mondo che cosa faceva quel signore o quella signora forse tagliava una pelle su un supporto rigido e dopo averla tagliata si è accorto che di quella sua azione utilitaristica era rimasta una traccia e che cosa poteva fare di questa traccia forse poteva utilizzarla per dire qualcosa a qualcun altro anche quando lui non era più lì a intagliare cioè qui gli americani dicono quando si parla di evoluzione sono tutte just so story cioè possiamo inventarci delle favole tanto che nelle società di linguistica l'evoluzione del linguaggio era un tema tabù per molti anni non se ne poteva parlare perché si diceva sono scenari che possiamo star qua davanti al focolare a immaginarci scenari mondi possibili ma non avremo mai la macchina del tempo che ci consente di andare indietro e vedere se le nostre ipotesi erano giuste ma questo processo di esternalizzazione che decolla definitivamente con l'invenzione della scrittura in cui dei contenuti sono disponibili centinaia di anni dopo che sono stati scritti da persone che non hanno mai incontrato chi aveva scritto quelle cose il legame con la corporeità rimane inalterato brevissimamente in questo ecco questo è un altro degli oratori di oggi Hans Gunbrecht in questo libro importantissimo la produzione della presenza che cosa il significato non può veicolare dice ogni contatto umano con le cose del mondo contiene una componente di significato e una componente di presenza la situazione della mia esperienza estetica è specifica nella misura in cui ci permette di vivere entrambe queste componenti in tensione quindi c'è la componente significativa linguistica ma c'è anche la componente della presenza e la componente della presenza è per definizione una componente carnale incarnata corporea in questo studio elettrocefalografico ad alta densità ci siamo chiesti cosa succede al cervello delle persone quando gli fai vedere una lettera dell'alfabeto un ideogramma cinese o uno scarabocchio disegnati a mano in breve ve lo dico subito si attiva la rappresentazione motoria del gesto che ha prodotto quei segni grafici quando io vedo un'immagine statica prodotta da un gesto grafico di qualcun altro la simulo attivando la rappresentazione motoria nell'emisfero di sinistra guarda caso quello che controlla il movimento della mano destra i soggetti erano tutti destrimani e quando guardo un taglio di fontana allora la mia esperienza di questa immagine è pluristratificata voglio essere ultra chiaro non voglio che nessuno di voi se ne vada di qui e pensi Gallese ha detto che l'esperienza estetica è prodotta dall'attivazione dei neuroni specchio punto sarei un matto se pensassi una cosa del genere è possibile che sia matto ma non per questo motivo sicuramente che cosa dice questo esperimento e che cosa dice un esperimento successivo in cui le immagini erano le pennellate dinamiche di Franz Klein che si attiva la rappresentazione motoria del gesto questo di nuovo è solo un elemento della mia esperienza estetica perché questa esperienza estetica normalmente non avviene nel laboratorio del dipartimento di neuroscienze di Parma avviene in un museo dove ho pagato un biglietto dove ci sono tutta una serie di condizionamenti cognitivo culturali che mi spingono a essere di fronte a quell'immagine al netto di tutto ciò però sotto vedete c'è sempre questo firrugge che ci riconduce all'esperienza corporea e quindi l'opera d'arte media la risonanza motoria ed affettiva che scaturisce tra l'artista e il fruitore questi aspetti sensori motori che avvengono quando io mi metto di fronte a queste immagini rappresentano verosimilmente il livello più diretto ed automatico di processazione che consente a me fruitore di quell'immagine di sentire l'opera a uno dei tanti livelli a cui io la posso o con cui mi posso relazionare con quell'opera quello corporeo quello empatico quello dell'Einfulung di cui parla alla fine dell'ottocento Robert Vischer la stessa cosa la ritroviamo questo è un brano di un film muto fantastico di Jeanne Epstein in Kurt Fidel il ruolo dell'embodiment nel cinema qual è l'ipotesi che abbiamo descritto a fondo con Michele Guerra nello schermo empatico il significato del film non dipende esclusivamente da concetti e proposizioni ma anche da schemi sensori motori affettivi che mettono lo spettatore letteralmente in contatto con lo schermo modellando una forma multimodale motoria emotiva di sensazioni che sfrutta tutte le potenzialità del sistema cervello corpo quindi lo stile del film i movimenti di macchina le tecniche di montaggio le inquadrature i primi piani l'uso del colore o del bianco e nero creano le condizioni per una cognizione incarnata del film e in questo modo stabilendo una continuità tra il nostro rapporto col mondo fisico della realtà quello in cui ci troviamo tutti in questo momento è il mondo della finzione non c'è una barriera categoriale tra il mondo della finzione e il mondo della realtà entriamo e usciamo costantemente da questi mondi perché in tutti questi mondi in qualche misura il nostro corpo ci fa sentire a casa questo è il primo studio che abbiamo pubblicato sul cinema in cui abbiamo paragonato che cosa succede nel cervello dello spettatore quando vede una scena filmata filmata tenendo la telecamera ferma muovendola su un carrello usando un dolly zoomando sulla scena o usando la steadycam cioè montando la camera cinematografica la cinepresa sul corpo dell'operatore e la prima grande realizzazione artistica al cinema con la steadycam è Shining di Stanley Kubrick tutte le scene di Danny nel corridoio sul triciclo gli inseguimenti nel labirinto innevato impossibili da realizzare con un dolly sono realizzati per l'appunto con la steadycam bene si attiva il cervello motorio dello spettatore e si attiva di più quando la stessa scena è girata con la steadycam e poi infatti non a caso quando gli rifacciamo vedere tutte le scene gli chiediamo di dare delle valutazioni più oggettive di quello che hanno visto e provato tutti dicono la scena in cui mi sono immedesimato di più è questa non è facile distinguere una scena girata col dolly rispetto a quando è girata con la steadycam ma il nostro cervello le distingue perfettamente e questo studio che sta per uscire invece è uno studio in cui ci interroghiamo sul montaggio ma non ho tempo di entrare nei dettagli concludo il corpo questo è un po' il messaggio con cui vorrei concludere il corpo costituisce la fonte principale della consapevolezza pre-riflessiva che noi abbiamo di noi stessi e degli altri nonché quello stesso corpo rappresenta la radice e la base su cui si sviluppa ogni forma di cognizione esplicita e mediata dal linguaggio di questi stessi oggetti noi stessi e gli altri quindi se guardiamo al corpo in questo modo il corpo è il vero a priori prima ancora di spazio e tempo gli a priori kantiani trovano forse una loro precedente radice in un a priori che è il più a priori di tutti se mi passate questo gioco di parole che è appunto il corpo il corpo è la sorgente perché a priori perché è la sorgente non ulteriormente riducibile dell'esperienza di noi stessi e del nostro rapporto con il mondo e con questo ho concluso grazie ringraziamo ringraziamo il professor Gallese per la sua lezione magistrale grazie 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 grazie